ok adesso mezza sta iniziando ci prepariamo ok let's go let's go cazzo cazzo fire in the hole cazzo vabbè adesso siamo in pochi perchè la partita si sta riavviando adesso siamo in tanti adesso sempre gli inizi sono questi fire in the hole 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 scusa ops ok benissimo good good job nice shot ok let's go fire in the hole 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 Oh, 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 oh. Sì, faccio un po' di silenzio perché sto cercando di capire che cazzo fanno. Aia. Ah. Che culo. Sì, faccio un po' di silenzio. Sì. 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 Siamo fottuti. Se non ti vale una soluzione siamo fottuti. Siamo fottuti. Minchia. Sì. 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 ma vaffanculo questo non riesco mai a ucciderlo ok, aspettiamo questo Yaku che è dato morirà di sicuro perché ho poca vita ma mi si stava perché siamo a 5 a 2 e che cazzo ok, vabbè Eh, qua siamo due contro l'altro, contro tre. Ah, perfetto. Mission fail Nelta Ok, vediamo un po' di... Ok, vediamo un po' di... Soffro 46, devi pensare però, perché qua ti possono inculare in 5 secondi Ehm, che stupido Giugurio, speriamo di no Cioè, speriamo di sì che sia tonto, ma non penso, perché sia... Eh, vabbè, intanto... Mission success! Ok, vabbè, vabbè, vabbè! Ok, vabbè, 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 vabbè! Ok, vabbè, vabbè, vabbè! Ok... 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 Ok...